Cosa hai, mal di testa? No, è un tranquillante. Ma prendi spesso? Qualche volta, per dormire. Ma di che ti preoccupi ora? Chi c'è? Niente, ma se ti vedessi... Perché ridi? Io credo che non potrei tradirti mai. Non fosse altro per non sopportare il ridicolo, la fatica di doversi nascondere, mentire. Si vede che a te riesce facile, invece. Senti, Luisa, mi fa tanto piacere che tu sia qui, ma abbi pazienza, sono molto stanco, ho somma. Allora dormi. Buonanotte. Buonanotte. Io non lo so che cosa credi di vedere, di scoprire tu nella mia vita, riducendo tutta la meschinità di uno che ruba in cucina. Ma cosa ne sai della mia vita, di quello che ho, di quello che non ho? Che ne sai? So solo quello che mi fai vedere tu. Ma cos'è che ti faccio vedere, eh? Avanti, dimmelo che cosa vedi. Con questo tuo giudizio moralistico, dov'è che vuoi arrivare? Io non voglio arrivare a niente, sai. Lo so che siamo fermi da anni allo stesso punto. Sei tu che vuoi sempre ricominciare. Ogni volta mi richiami e credi sempre di riprendere da capo. Oh, dico, sei chiaro, io non voglio ricominciare proprio niente, sai. Ma insomma, che cosa vuoi? Ma tu, perché mi hai fatto venire qui? A che ti servo? Che cosa cerchi da me? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?